Eminenza, andiamo a chiudere un anno eccezionale per la Chiesa Comasca, Santo Scalabrini, Beato Ambrosoli e in particolare la sua creazione a Cardinale che ha riempito di orgoglio la comunità diocesana Comasca. Un saluto di pace e di gioia a quanti sono in ascolto. Voglio anch'io accettare dal Signore questa grazia. Abbiamo vissuto con gioia e anche intensamente questo anno. Il momento principale, io credo, sia stata la santificazione del Beato Scalabrini che è nativo di Fino Mornasco e la beatificazione del Padre Giuseppe Ambrosoli di Ronago. Due momenti che sono stati per noi un dono di grazia. Tutta la Chiesa universale ha riconosciuto quindi, attraverso il Papa, la santificazione e la beatificazione di questi nostri due amici. Una seconda sottolineatura vorrei ricordare. Quest'anno abbiamo chiuso felicemente il Sinodo Diocesano e alla fine ho consegnato questo testo, Testimodi di Misericordia, che direi è l'applicazione del Sinodo, o meglio, suggerimenti, per poter applicare il Sinodo che abbiamo celebrato nelle diverse realtà pastorali, sia nelle parrocchie che nei diversi vicariati. Da ultimo, ma non ultimo, abbiamo ricevuto umilmente, ma anche con gioia, la nomina cardinale del Vescovo di Como e credo che sia stato un momento di festa e di gioia per tutte le persone, perché la Diocesi di Como è stata messa un po' sul piedestallo, non tanto per i meriti del Vescovo, quanto piuttosto perché la Chiesa ha riconosciuto Como come Chiesa martire a causa delle persone che hanno dato la vita per il Signore. E io credo che fondamentalmente questa sia la spiegazione per cui mi sono ritrovato cardinale. Un momento di festa e di gioia, anche perché al mio concistoro il 27 di agosto hanno partecipato ben 500 persone della nostra Diocesi, quindi ho sentito tutto l'affetto, ma anche il sostegno della nostra Chiesa locale nei miei confronti. Si prospetta un inizio di anno difficile tra il conflitto in Ucraina, le crescenti difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese legate anche al caro energia. Come affrontare questo 2023? Con quale spirito? Io credo che lo spirito più opportuno sia quello di avere una grande speranza perché il Signore non ci abbandona, è con noi dentro i problemi della vita che vanno affrontati con molto realismo. Certo si richiedono gesti concreti di vicinanza e di solidarietà, soprattutto con le persone che hanno maggiormente bisogno di aiuto, di sostegno, di conforto, di consolazione e anche di impegno materiale. Nella messa della vigilia di Natale al carcere del Bassone è stata ricordata la figura di Don Roberto Malgesini. Come possiamo portare avanti la sua memoria? Sì, Don Roberto è molto accolto, molto ricordato e venerato non solo qui da noi ma anche in tanti luoghi d'Italia. Io credo che passati i cinque anni dalla sua morte possiamo felicemente incominciare il processo di beatificazione. Sarà un momento di festa e di gioia per tutti ma occorre in questo periodo, come stiamo facendo, tenere viva la sua memoria e soprattutto imparare da lui questo stile di accoglienza unito a tanta benevolenza, tanta pazienza e a tanta gioia che comunicava con la sua stessa presenza. Dopo gli anni della pandemia, quale spirito ha trovato nelle persone e quale como ha trovato in questo 2022? Dovremmo aver imparato una lezione molto importante ossia che ci si salva insieme oppure ci si perde insieme. Quindi un accresciuto senso di solidarietà per cui è importante stare uniti tra di noi e aiutarci a vicenda sia nelle realtà materiali ma anche nelle realtà spirituali. C'è tanta solitudine da noi e quindi bisogna fare in modo che tutti si sentano accolti e presi sul serio e amati. Qual è il suo personale augurio per il 2023? Sì che noi possiamo accettare i doni di Dio dentro questa realtà che è anche conflittuale. Spero che si possano fare passi di pace sia a livello internazionale sia a livello però di persona perché se non siamo in pace noi stessi con noi stessi, con gli altri, con il creato è difficile pretendere la pace per gli altri e allora incominciamo noi ad essere uomini e donne di pace.